Un cordiale saluto a tutti voi, telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con l'incontro periodico della parrocchia di Limana. In prima di copertina, la riflessione di Don Mario Doriguzzi, arciprete di Limana, a per titolo La Chiesa siamo noi, prende lo spunto da un consistente intervento di restauro della Chiesa che definisce una Chiesa che presenta da tempo fenomeni di degrado dovuti a tante realtà. Ecco questo impegno, restauro radicale. E poi Don Mario passa a esaminare il termine Chiesa, che vuol dire assemblea convocata, ma il luogo è chiamato Chiesa, ma la realtà sono i cristiani comunità. Ecco che allora la Chiesa comunità esprime la realtà della Chiesa che c'è in Limana e in tutte le altre comunità non solo con un edificio. L'assemblea liturgica è quella che è convocata nella Chiesa è la fonte che alimenta la vera fede. E qui abbiamo anche una bella foto dall'alto della Chiesa arcipretale di Limana, un interno di questo luogo. Ecco, partecipare tutti è un impegno ecclesiale rinunciabile che il Papa ha lanciato a tutte le comunità. Anche a Limana si sta cercando di fare questo. Un presente e un futuro di plastica. Ogni tanto mangiamo qualcosa il cui sapore è poco piacevole insipito e ci fa dire sembra fatto di plastica. Bene, ormai non è più un modo di dire perché è un acclamato che la plastica la stiamo mangiando e soprattutto bevendo. Ecco questa riflessione su un problema che coinvolge tutta un po' la realtà di questo periodo dove senza volerlo nel mangiare e nel bere vengono anche inseriti nel nostro corpo delle realtà di plastica. È un problema analizzato anche da questo articolo. Il giornale passa poi a presentare, in questo viaggio alla scoperta degli apicoltori limanesi, viene presentata Aurora Meneuzza, apicoltrice di lungo corso e tra le massime rappresentanti storiche di Api Dolomiti. Questa associazione cooperativa che sostiene e unisce tra di loro tutti coloro che operano in questo settore del Bellefoto, le Arnie, uno striscione che ricorda questa cooperativa, momenti di presentazione. Ricordando la nostra storia attraverso i vecchi bollettini, viene ricordato, prendendo lo spunto dall'eco di Santa Giustina, bollettino parocchiale di Limana, siamo nel gennaio 1967, viene data la notizia, viene riportata la notizia della morte di Don Attilio Molin che ha avuto nel 65 un incidente stradale, sacerdote ordinato nel 53 con un consistente gruppo di altri suoi compagni, sacerdote ricordato per il suo impegno pastorale, per il suo spirito sacerdotale e viene riportato l'articolo che nel momento della morte e dei funerali ne ricorda la figura. Ancora dall'eco di Santa Giustina, la chiesetta di Villa rimessa un nuovo e il parroco presenta, vedete, possiamo vedere che è un'attività, un impegno da sempre presente nelle nostre comunità di tenere ben a cuore e con grande cura le chiesette frazionali. La pandemia, i bambini e la scuola, una riflessione sul Monte Rosa dopo il trapianto, interessante conferenza per promuovere l'Aido. Ecco, un'associazione bellunese, associazione italiana per la nozione di organi, tessuti e cellule, associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri organi, tessuti e celluli in caso di morte per far continuare una nuova vita. Ecco, un'associazione che va sicuramente promossa, promossa nel senso che è fatta da far conoscere e alla quale per quanto possibile aderire. A quartiere Europa il premio dei presepi, il premio San Valentino 2022 a Lerina Bortot, numerose persone hanno voluto segnalare per il premio San Martino 2022, una persona che da alcuni decenni presta il suo servizio alla comunità e alla parochia di Limana in silenzio e umiltà. Ecco, la vediamo qui, la signora Lerina Bortot con l'arciprete e il sindaco. A Periprega, un'occasione di incontro, gruppo giovani tra riflessione e azione, gruppo San Vincenzo sempre attivo, la prima confessione dei bambini, momento significativo, un gruppo consistente di bambini, tanta generosità per i lavori in chiesa parochiale. A Madonna Parecce è stata fatta un'azione di sboscamento perché l'umidità delle piante e anche le radici danneggiano le strutture malari, quindi un intervento interessante in questo luogo ben conosciuto e amato dai limanesi e non solo. Anche Limana partecipa al sinodo promosso da Papa Francesco, viene dato conto poi dell'attività dei primi mesi di scuola, della scuola materna Santa Maria Assunta, con foto che documentano le varie attività e viene descritta l'iniziativa, le iniziative educative che vengono portate avanti. Il Coral Cobaleno e l'incontro con Papa Francesco a Roma, le 47 bimbi del Coral Cobaleno di Limana con i loro genitori non solo hanno incontrato il Papa ma poi hanno fatto una manifestazione a favore della pace e sono stati tre giorni indimenticabili per tutto l'insieme ma soprattutto poi per l'incontro con Papa Francesco. Benvenuto ai limanesi, i nuovi limanesi nel 21, ben 102 nuove famiglie nel nostro comune, dice l'articolista. Limana manifesta contro la guerra in Ucraina, come hanno fatto molte altre comunità, le ditte Bauterning e Meccano Stampi si certificano e ottengono questo risultato di qualità della loro struttura operativa. Valmorella anche saluta i nuovi residenti, i donatori di sangue a Limana sempre vivi, vengono fatti gli auguri a tre persone che ha raggiunto i cento anni, tra questi Don Mario Carlin che è stato parroco di Limana dal 73 al 1989, premi anche ai donatori di sangue. Poi l'anagrafe e la generosità. Abbiamo visto l'incontro periodico della parrocchia di Limana. Passiamo a Il Cadore, giornale della magnifica comunità di Cadore, anche questo giornale in prima di copertina riporta una manifestazione, una preghiera per la pace, un'occasione degli eventi che tutti abbiamo seguito. Una riflessione di Valentino Larese Filon, tempo di guerra, sembrava impossibile ma è successo e riflette su questo evento che sta segnando la storia dell'Europa. Tempo di guerra, cronaca della solidarietà al popolo ucraino, anche qui vengono dati conto non solo delle attenzioni ideali ma anche delle attenzioni concrete attraverso raccolta di fondi e di materiale che poi attraverso gli opportuni canali sono stati portati dove ci sono i profughi ucraini. Tempo di guerra, un papero in missione speciale, un'altra riflessione, psicologi del territorio a supporto dei profughi, anche da noi, servizio offerto gratuitamente dall'Accadore SCS, è una maniera di sostenere chi è uscito dal territorio dopo il disastro della guerra. Legge quadro sulla montagna, arriva all'occaide del governo, viene presentato questo intervento legislativo che sembra aver trovato l'apprezzamento di coloro che sono i protagonisti operativi, qui i commenti di Roberto Padrin, Loren Berton, Claudia Scarzanella e Paolo Doglioni, responsabili di vari presidenti di varie associazioni e quindi indicano un'attenzione positiva a questa realtà. e poi la riflessione e nuovi orizzonti per la montagna, di un esperto di queste problematiche, Gian Candido De Martín. Pareolimpiadi di Pechino, argento e bronzo per René De Silvestro, ecco per questo giovane cadorino di cui abbiamo visto leggesta anche in occasione delle pareolimpiadi, viene fatta una riflessione e una presentazione fotografica delle sue vicende e dell'apprezzamento che ha avuto al suo ritorno in patria con le due medaglie. La consulta giovani, cadore a realtà, ragazzi e comuni, fatevi avanti, io invito a intervenire e essere protagonista. La vita in montagna raccontata dal video di Chiara, Chiara Zandanel di Sibiana, che presenta un'opera, la montagna preserva le persone nella loro umanità più semplice e vera e non vi è cosa più preziosa ma al tempo stesso più difficile da trovare, ecco quindi questo racconto che viene fatto. Strategia e territorio, due incontri molto interessanti e molto stimolanti per dare consapevolezza al nostro territorio delle eccellenze in termini di asset e di risorse umane presenti per dare il segnale che la nostra società civile si sta attivando con modalità indubbiamente effervescenti, ecco quindi mantenere viva l'attenzione e l'impegno nella zona del cadore. Una problematica che si è creata, che viene richiamata da questo articolo di Vittore d'Oro, ricostruire la filiera perché in cadore manca il legname. sembra una notizia assurda però c'è questo problema e quindi ecco la filiera del legno che viene ripristinata per garantire un utilizzo appropriato e puntuale. Lorenzago punta sul turismo religioso e plaude l'iniziativa di Francesco Carraro la ristrutturazione di due esercizi, l'albergo Tremonti e l'albergo Cridola per dare anche a Lorenzago nuova vitalità turistica e di accoglienza. Anna Cadore, cambio al vertice da Antonio Cason ad Antonio Toffoli, ecco questo passaggio di testimoni di coloro che guidano la sezione del cadore, che hanno guidato e guideranno la sezione del cadore dell'ANA e quindi un gruppo significativo di persone che vengono dai vari gruppi presenti nel territorio. e il giornale dà conto dell'opera attraverso un'intervista al presidente uscente Antonio Cason con relativa foto. Crocerosa italiana nei ricordi di Mercedes Genova, aperti i bandi dalla magnifica comunità di Cadore con borsi di studio e premi per gli studenti di scuola superiore universitaria. e capitano le volte che ci sono a disposizione delle possibilità ma non vengono conosciute o non ci si impegna a cercarle e quindi rischiano di andare a vuoto. È importante conoscere questi bandi e poi indirizzare le persone a partecipare. Cadore di ieri, una interessante foto di donne al lavoro nell'agricoltura pubblicata la cartina della traversata del Cadore anche questo è sempre un'iniziativa interessante iniziative del CAI per i seniores Cibiana di Cadore con i suoi murales Valentino Boldo e la sua visione del turismo e viene presentato un autista, un artista, ritratto d'artista il Cadore perde un pregevole pittore Mauro Chiavaccini in arte Chiani, morto all'età di 78 anni a Campolongo dove viveva. L'ultimo dei partigiani di Santo Stefano, Luigi Solagna Fischio fu uno degli angeli custodi dell'ufficiale alleato a Steval ecco quindi questa persona morta a 98 anni l'ultimo sopravvissuto del folto gruppo di ex partigiani di Santo Stefano di Cadore è forse uno dei pochi che potevano vantare ad aver conosciuto di persona il mitico capitano dei presenti americani Paracadutatus e Le Dolomiti nel 1944 quindi viene dato conto della sua opera. L'impresa del K2 rivive nelle riprese di Mario Fantin da febbraio in distribuzione nelle sale di Tutti Italia il nuovo montaggio del documentario restaurato Italia K2 del 1955 con grande protagonista il cortinese Lino Lacerelli impresa che ha segnato la storia alpinistica e di cui si è parlato e si parlerà sempre. Il concerto poetico musicale alimana per la festa della donna viene dato conto di questa iniziativa da Cortina la prima edizione di Alpinathlon un grande evento sportivo si è corsa per commemorare i 150 anni della nascita delle truppe alpine iniziative sportive e di ricordo sempre interessanti. La discesa in Zazzera da Perrarolling una descrizione dell'Ottocento l'autore Napoleone Cozzi è stato uno dei personaggi dai molteplici interessi fra cui la decorazione morale e l'alpinismo e qui invece abbiamo la discesa con le zazzere e delle interessanti foto tra cui l'arrivo della zazzera a Venezia. Ecco abbiamo visto il Cadore giornale della magnifica comunità di Cadore con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno. Grazie a tutti